e ci siamo insomma eccoci qui siamo arrivati con il card tutti quanti a riprendere è una roba assurda andiamo a vedere meglio la pista beh tra poco ci siamo anche noi vanno però vanno porca puttana cazzo se vanno porca puttana cazzo se vanno 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 cazzo cazzo se vanno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.